Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Tanto! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno è a distretta? Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Oh, attento, Charlie! Ecco fatto! Una mia scarpina a sonagli, Charlie! Ho trovato le mie vecchie scarpine a sonagli! Ma ora sono troppo piccole, perché io sono cresciuto! Così le ho fatte indossare a Charlie! Gli stanno più spetti! Però lui le voleva tenere! E questo mi ha fatto sentire strano! Perché sono le mie scarpine a sonagli! Credo che a Charlie piacciono quelle scarpine a sonagli quasi quanto piacciono a te, Bing! Forse Charlie potrebbe giocarci solo per un pochino! Sì, solo per un po'! Poi, il piccolo Charlie ha camminato per la prima volta! E noi eravamo tutti molto emozionati! Charlie! Bing! Grazie, Bing! Charlie ha camminato di nuovo! Se vuoi puoi tenere tu le mie scarpine a sonagli! Ho detto a Charlie che poteva tenere le mie scarpine, perché ora servono di più a lui! Scarpine a sonagli! Sono una cosa da Bing! E ora sono una cosa di Charlie! Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, Bing con Flop oggi cucinerà! Splish splash! Splish splash! Ora tocca a te, Sola! Splish splash! Splish splash! Pulite! Un po' di miele! Oh, ancora un po'! E ora? Uova! Eccoli! E che cosa ci serve adesso? Facciamoli tutte e due! Sì! Tutte e due! Buona idea! A lui piace questo gioco! Sgocciolando! Semplicemente rimescolando, Sola! E adesso sono pronti? Non ancora! Bene, l'impasto per i biscotti è pronto! Eh, non ci resta che stenderlo con il matterello adesso! Lo faccio io! Ok, Bing! Oh, stendi bene la pasta al centro! Bene! Ora dobbiamo tagliare la pasta con degli stampi a forma di coniglio! Poi inforneremo tutto e alla fine decoreremo i biscotti! E poi ce li mangeremo! Miam, 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 miam! Tieni! Questo è per Coco! E questo è per Charlie! E ancora una! Oh, perfetto! E quest'altro è per me! Oh, è il momento di mettere i nostri biscottigli a cuocere nel forno ben caldo! Stai indietro, Bing! Non scordarti di suonare e per dirci quando saranno pronti, Pulcino Timer! Oh, i biscottigli allo zenzero! Tieni, provane uno, Bing! Grazie, Flop! Mmm, veramente deliziosi! Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, Bing una sorpresa per Sula preparerà! Ecco! Mmm, una bacchetta magica da fata! A Sula piacerà molto! E che altro? Lei adora i brillantini! Sì, mettiamoci dei brillantini! Ok! Ecco i brillantini! Oh, attento, Bing! Oh! Brillantini! Finito? Sì! Guarda, Flop! Oh, è bellissimo! A Sula piacerà tanto! Molto bene, piccolo Bing! Andiamo a portarlo a Sula adesso! Ma certo! Un biglietto per Sula è una cosa da Bing! E io lo adoro! Oh, la mia tazza pinguino! Puoi usare la mia tazza pinguino! Mmm! Oh, grazie, Bing! Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Ci serve un foglio di carta Sembra una mosca! Guardate! È arancione! Che altro mettiamo? Altra colla! Lo voglio fare qui! Non è necessario metterci molta colla! Piedi a terra! La mia tazza pinguino preferita! È bellissimo! Ciao, Sula! Forza, Bing! Ho una cosa per te! Oh, cos'è? Sono dei foglietti a forma di cuore! E sono del tuo colore preferito! Foglietti arancioni per me, Flop! Sei molto gentile, Sula! Anche io ce li ho del mio colore preferito! Il rosa! Grazie, Sula! Puoi metterli sulle tue cose preferite! Che ne dite di una bella cioccolata calda per riscaldarvi un po'? Oh, cioccolata calda! Ora è il latte? Sì! Oh, no! Mi sta cadendo! No, 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 no! Presto, presto! Ce l'ho fatta! Oh, cioccolata calda! Che cosa manca? Splash! 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 Un po' di miele! Una Due La possiamo bere? Vediamo! Adesso è perfetta! Buona! Buona? Buona! Fatto? Ancora quelli! Va bene! Oh, veramente deliziose! Giocare con i cubi è una cosa da Bing! Sì! I po' di... Happy tea! Happy tea! Happy tea! Boosh! Di nuovo! Devono essere davvero coraggiosi per arrivare fin lassù! I po' di... Happy tea! Boosh! Oh, Flop! È tutto sporco e gocciolante! Non ti preoccupare, Bing! Non ti preoccupare, Bing! Non è una cosa grave! Dobbiamo soltanto lavare! Ma non con la lavatrice! Non gli piace per niente! Gira troppo forte! No, 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 no! Possiamo fargli un bagno qui, nel lavandino! Ok! Che cosa manca? Hopiti! Boosh! Hopiti! Boosh! Sì! Anche Hopiti deve prepararsi per andare a letto! Boosh! Sì! Boosh! Anche la mia amica sa fare Boosh! Lei può essere Ippoti! 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 E Hopiti! Ciao, Ippoti! Ciao, Hopiti! Io sono molto brava a fare Boosh! Sta a vedere! Pronto? Ippoti! Hopiti! Boosh! Solo io e Hopiti facciamo Boosh! Ok! Saluta l'attuga, Hopiti! Saluta l'attuga! Ciao, l'attuga! Ciao, l'attuga! Andiamo, Hopiti! Andiamo, l'attuga! Andiamo, Hopiti! Andiamo, l'attuga! Boosh! Boosh! La polverina magica è dappertutto! Boosh! Boosh! Guardate! Oh, caspita! Sì! Ma è nuovo! C'è uno scivolo! Wow! E c'è un tunnel! E c'è anche un ponte! Boosh! 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 But potresti tenermi, Hopiti! Certo! Dai, Bing, si comincia da qui! Stiamo guardando chi si sta muovendo! Opti non si sente bene, infermiera sola! Ok, infermiera Bing, allora gli metterò un ceratto! Ah, molto meglio! Possiamo farlo girare insieme! Sì, così potrò mostrarti come si fa! Bing, tu muovi dalla parte sbagliata! Fai come faccio io! Pula, pula, pula! Hai visto? Sei pronto a riprovarci, Bing? Guarda, Flop! Questa è la mia ora e quella è la tua! Capio tutto quello che faccio! Le ombre sono davvero molto bravi a copiare! Ciao, ombra piccina! Ora non è più così piccina! Adesso è alta anche la mia! Puoi farci girare, Flop? Sì, tieniti forte! Sì! Whee! Più veloce, Flop! Oh! Api ti vuole scendere adesso! Ok! Cos'è quella? È la mia nuova macchinetta delle sorprese! Io adoro le sorprese! Argentato, 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 argentato! Rinoceronte argentato! Guarda, Bingo, ha avuto il rinoceronte argentato! Sei davvero fortunata! Ok, Bing, ora tocca a te! Arancione, 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 arancione! Ti prego! No! La macchinetta delle sorprese ti dà sempre una sorpresa! Anche se non ti ha dato il giochino che desideravi! Questo non lo fa! Il mio non può arreteare! Ma è bellissimo! Che balzo! Avete visto? Sì! Sì! Oh, è super rimbalzante! E anche gli occhi! Beh, questa sì che è una sorpresa! A volte non si riceve la sorpresa che si desidera, ma resta comunque una sorpresa! Le sorprese? A volte sono cose da Bing! Siete pronti? Sì! Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Della carta! Ora, piegatelo! Pie... Che bello, Sula! Ti stai divertendo! Sì! Più veloce, Bing! Più veloce! Guarda, mi ama! Ecco! E che altro? Oh, è delle decorazioni! È una foglia? Sì! Molto bene, Sula! Sì! E non dimenticare la colla per incollarcele sopra! Guardatemi! Questa è Sula! Oh, è flap! Esatto! Esatto! Woohoo! Oh, caspita! È bellissimo! Una, due scarpine assonagli! Grazie, Coco! Sono così tenere! Hai piedi troppo grandi! Sì! Tin tin tin! E che giù! E che giù! Grazie a tutti